Non garantiti. In questi giorni stiamo di nuovo assistendo alle incredibili peripezie funamboliche che gli ipergarantiti romani stanno propinando al nostro Paese. Le dichiarazioni del Presidente dell'Inps, seguite poi da una lettera di scuse sul Sole 24 Ore, da cui risulta che 4,3 milioni di italiani hanno ricevuto lo stipendio alla fine del mese da parte dei loro datori di lavoro perché non è arrivata la Cassa Integrazione, la dice lunga sul fatto che gli ipergarantiti romani guardano la pagliuzza negli occhi degli altri ma non vedono la trave nei propri occhi. Questo doppiopesismo romano ha veramente dello stucchevole e secondo me ha stancato noi italiani. È stato poi incaricato Colau di fare un programma di suggerimenti per il governo. Colau non fa in tempo portare i suggerimenti a Roma che il nostro Presidente del Consiglio lo delegittima pensando di fare degli stati generali. A Roma sono veramente confusi. Io penso che ormai il modo demenziale con cui il Movimento 5 Somari e il Partito Democratico, che di Democratico credo ormai abbia molto poco, se non quello di dare a pioggia i soldi ai fini elettorali, non stia facendo molto. La situazione ormai è drammatica. Il resto dell'Europa sta uscendo dalla pandemia, sta reagendo alle difficoltà economiche con una marcia, una velocità, un'intelligenza, un pragmatismo che noi italiani non sappiamo neanche da che parte si comincia a scrivere. Io credo che con questo governo a trazione di sinistra, a trazione meridionale, noi dobbiamo deciderci a fare i conti. Io insisto, stiamo con Carlo Bonomi. Stiamo con Confindustria, uniamoci a corte, in questo caso uniamoci nelle nostre aziende, facciamo squadra, mettiamo da parte ogni individualismo possibile, noi in mondo non garantiti o facciamo squadra o questi imbecilli ci porteranno alla distruzione. a settembre finirà la cassa integrazione, a settembre finirà l'azione dei pagamenti, a settembre lo Stato deve cominciare a incassare soldi, non ci sono alternative. Se non troviamo in tempo, in questi pochi giorni che abbiamo, una soluzione e lasciamo il Paese in mano a questa gente, noi andremo a sbattere. E sarà un urto violento, che ce lo ricorderemo per parecchi anni. Si parla di riduzione del PIL, della bellezza del 15% e si parla di un debito ormai nell'ordine del 170% sul PIL. Vi ricordo che fino a pochi mesi fa discutavamo dello zero virgola, del problema dell'IVA eccetera, adesso siamo passati al 170%, ma 170% di debito sul PIL, senza un Paese che funziona, senza aver rimesso l'occupazione, la generazione di ricchezza, al centro del progetto di questo Paese, siamo morti e a Roma, mi spiace dirlo, ci sono solo degli incompetenti. il Brambilla